I responsabili di Africa Chiama sono ritornate dall'Iringa dove hanno portato avanti alcuni progetti che l'ente fanese ha in corso in Tanzania. Per l'occasione l'associazione ricorda che è ancora aperto per poco il bando per il servizio civile universale rivolto ai giovani. Sono rientrata qualche giorno fa da una missione a Iringa in Tanzania che ho svolto insieme ad Anita Romagnoli sempre dell'associazione l'Africa Chiama. In particolare abbiamo trascorso dei giorni a Iringa che è questa città, quest'area dove l'Africa Chiama opera da più di dieci anni. L'obiettivo di questa missione era quello innanzitutto di portare la vicinanza di tanti donatori, sostenitori della nostra associazione ai beneficiari, migliaia di beneficiari che riusciamo a raggiungere attraverso interventi concreti e mirati e anche la vicinanza verso il nostro staff perché proprio di Iringa noi collaboriamo con oltre 30 persone locali che appunto si occupano di portare avanti quotidianamente i vari interventi. Uno dei progetti sicuramente più importanti che l'associazione porta avanti a Iringa è quello delle messe scolastiche, è un progetto che ci vede impegnati da tanti anni e che costantemente ha bisogno urgentemente di sostegno perché è un progetto che si rivolge a più di 4.800 bambini e bambine che frequentano 6 scuole primarie ai quali garantiamo un pasto caldo due volte alla settimana. E proprio questa è stata l'esperienza più toccante perché andare, visitare, vedere con i propri occhi e toccare con mano la gioia di tantissimi bambini che proprio in fila con ognuno il proprio piattino aspettano con ansia di ricevere il loro pasto caldo è ovviamente qualcosa di inspiegabile e particolarmente toccante. È proprio per loro che andrà tutto il ricavato della campagna di Pasqua che abbiamo iniziato da poco e attraverso le quali appunto sarà possibile sostenere pasti caldi attraverso l'acquisto di uova di cioccolato o colombe solidali. L'Africa Chiama anche quest'anno ha a disposizione 10 posti per giovani dai 18 ai 28 anni di età per il servizio civile universale. Di questi 10, 3 sono destinati alla nostra sede di Fano, quindi i giovani potranno passare un anno con noi cimentandosi in tante attività di inclusione delle persone fragili sul territorio o di sensibilizzazione, organizzazione eventi acquisendo tantissime competenze trasversali poi utili nel mondo del lavoro. Sarà possibile presentare domanda entro le ore 14 del 22 febbraio, quindi manca pochissimo tempo. Per prepararsi al meglio è possibile contattarci o venirci a trovare in via giustizia 6D per togliersi qualsiasi dubbio rispetto al bando o al progetto. È possibile presentare poi la domanda attraverso l'apposita piattaforma online, quindi domandaonline.servizicivile.gov.it Il servizio civile è un'esperienza altamente formativa e prevede appunto durante i 12 mesi un affiancamento e una formazione costante. Inoltre è previsto anche un rimborso mensile di 507 euro al mese.